Sai Zaro, mia madre è stata licenziata. E anche mia mamma è stata licenziata. Oh, perdi l'indindina. Ragazze, il vero problema è che noi siamo spinti a ritenere che di moda essere stupidi, volgari e ignoranti. La scuola vuole che noi rimaniamo ignoranti, così le classi inferiori non si possono mescolare con quelle superiori. Oh per bacco, c'hai ragione. Sto male. Cosa hai fatto ieri sera? Ho bevuto. Eh, strano. Eh, lo so, ma lo facevano tutti. Sì, ma sei consapevole che per divertirsi non devi per forza bere. Sì, però siamo usciti, eravamo tutti insieme e ho bevuto. Sì, ho capito, però non sempre adattarsi a quello che fanno gli altri è il miglior modo per divertirsi. Sì, dopo questa esperienza ho imparato che non lo farò più. Sì, vabbè, ma che sia veramente l'ultima. Sì, promessa. Bevo! 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 Mi ubriaco e sto felice anche se poi vomito. Mamma, che ne dici se guardiamo un po' di tv insieme? Hai fatto i compiti? Sì, sì, certo li ho fatto. Ah, bene, allora guardiamo bene. I vostri bambini hanno sete? Dopo il calcio e la danza hanno voglia di una bibita diversa? Provate il succo arcobaleno nei gusti di mela, fragola e banana. E in più se prendete la confezione extra avrete anche delle sorpresine. Mamma, vuoi dire subito questo sotto? Sì, va bene, è sabato andiamo a comprarlo. Evviva! Ah, ahia, la spalla. Ti sei fatto male, ti sei sbrogato il braccio. Cross prova fast un veloci gel. In un solo quarto d'ora elimina il dolore. Sto già meglio. Te l'avevo detto, provate anche voi fast un veloci gel. È un farmaco consigliabile al di sopra di 18 anni. Potrebbe avere effetti collaterali anche gravi. Mamma, è ancora una pubblicità per bambini? No, mi dispiace tesoro, questa non è una pubblicità per bambini. Buongiorno a tutti, siete in onda su TG24 e vi informiamo che pochi istanti fa è successa una sparatoria in piazza Duomo a Milano. Buongiorno a tutti, benvenuti su TG24. Vi informiamo che è successa una sparatoria in piazza San Marco a Venezia. Per ora sono stati constatati cinque morti e quattro feriti gravi. Vi prendiamo di rimanere in linea per ottenere le informazioni. Oh mio Dio, che è successo? No, devo assolutamente chiamare Marco. Pronto Marco? Ehi, hai sentito anche tu che è successo a piazza San Marco? Sì, tu che lavori nella politica, devi subito richiedere una legge sulla sicurezza. ha scapito della libertà, assolutamente. Non deve più succedere, davvero. È troppo pericoloso. E anche Venezia, cavolo, eh. No, guarda che sito che devo trovare. Mi ha fatto risparmiare 100 euro sull'assicurazione. Io invece ho trovato uno che ha comprato il nuovo iPhone. Ma ragazzi, mica ci crederete. In realtà le nuove tecnologie vi controllano e vi schiavizzano, facendovi credere di essere superiori. Ma in realtà ha fatto solo quello che vogliono i venditori. Ma che sono scuola? Grazie a tutti.